Beh, ciao! Pensavo al lapislazzuli, quella pietra blu piena di carica, piena di energia. I faraoni se ne adornavano perché aumentava l'intelletto, aumentava il capire, aumentava l'enfasi, aumentava il sonno, rasserenava, dava forza e potere. Quindi, cari amici, quando vedete una bella femmina con gli occhi blu e gli dite ai due occhi che sembrano due lapislazzuli. Siete già rovinati! Occhio, occhio!